L'Unione Europea finalmente ha capito questa urgenza e ha capito anche il proprio senso, la propria responsabilità. Abbiamo nelle ultime settimane compiuto da questo punto di vista dei passi da gigante ed ora la risposta è una risposta europea. E come suol dirsi si tratta di una risposta globale, globale perché tocca tutti gli aspetti di un problema complesso che non verrà risolto con un colpo di bacchetta magica, ma per affrontare il quale noi tutti insieme, stati membri e istituzioni europee, abbiamo elaborato un insieme di politiche europee.